Buongiorno ragazzi, ore 11.50, sono Giacomo, diventerò milionario in 5 anni, episodio 2, stagione 5. Oggi parliamo di un argomento che mi sta sempre più a cuore e la cosa interessante è che appunto, come spesso succede, non mi stava così a cuore fino a qualche mese fa. Quindi siccome sto secondando questa mia crescita esponenziale a livello personale, che ancora non è seguita da una crescita ugualmente esponenziale a livello monetario, ma sono sicuro che arriverà, su questo non ho dubbi, ve ne voglio parlare in quanto appunto se una cosa sta crescendo così tanto, vuol dire che è veramente importante, ed è lo stare bene, che non vuol dire stare meglio, cioè come stai, ah sì dai sto bene però potrei stare meglio, no no, cioè non è che sei un male da una parte e vorresti avere meno male, no, è il non avere male, cioè l'essere sempre al 100% nella propria pelle, sia a livello mentale che fisico, per essere pronti a cogliere tutte le occasioni come abbiamo detto ieri, ma anche per godersi la vita, vaffanculo, cioè se io sto male perché dico vabbè voglio diventare milionario, lavoro come uno schiavo in miniera e poi mi godo la vita, non è detto che ciò avverrà, perché se tu inizi già a scendere a compromessi tra denaro da guadagnare e salute, è un bel problema perché vuol dire che le priorità sono assolutamente sbagliate e qui faccio me a colpa perché ovviamente io sono il primo ad aver fatto questo errore qua, tra l'altro non sono neanche partito con la sicurezza di arrivare a guadagnare quei soldi sacrificando la salute, poi non è che abbia fatto questi sacrifici incredibili, però insomma diciamo che non ci sono stato così attento come dovevo probabilmente e quindi adesso mi trovo qua in una situazione abbastanza scomoda in tutti i sensi perché il primo sintomo, possiamo chiamarli così, possiamo chiamarli i sintomi quando hai un problema è un sintomo che lo evidenzia e magari tu invece che cercare la soluzione a quel sintomo cerchi di alternative, cerchi di tamponare, cerchi di guardare altrove per non capire che effettivamente ti stai dicendo qualcosa nel mio caso il sintomo più grande è stato il mal di schiena ragazzi, lo sapete ma veramente mi sta condizionando un sacco soprattutto in questi ultimi 20 giorni che non ho potuto in pratica muovermi, quindi non potrei neanche fare gli esercizi è stato un disastro perché adesso si è riproposto come era tipo un anno e mezzo fa, quindi proprio nel suo massimo splendore e basta mi sono detto cioè Giacomo non esiste più che tu continui a sopportare questa cosa qua perché vaffanculo cioè cosa diavolo stai facendo, cosa diavolo stai aspettando, questo episodio chiaramente è dedicato a me in quanto come ogni episodio riflette le mie idee, i miei pensieri e vuole essere anche di spunto per voi però anche veramente è una preghiera se si può così dire nei vostri confronti per veramente iniziare a capire che se c'è qualcosa che non vale, c'è qualcosa che mi fa star male, c'è sicuramente una soluzione e il non guardare, non cercarla è un problema perché vuol dire che quando arriveremo, magari appunto facciamo finta di niente perché abbiamo un obiettivo, se questo obiettivo si prolunga per troppo tempo chiaramente può diventare una scusa per non risolverlo e poi quando in realtà questo problema si è sedimentato e non è più guaribile tipo se dovessi andare dal dottore, il dottore mi dovesse dire guarda già come il tuo mal di schiena ormai è così è cronico, cazzi tuoi non è che posso dire a che palle o se non avessi voluto diventare milionare se diventare milionare non fosse stato così difficile no no, non esiste il problema è, e la colpa è solamente mia, non è di nessun altro quindi non è dell'obiettivo che mi sono posto, della sua difficoltà delle persone che non ho incontrato, delle occasioni che non ho avuto la colpa è 100% mia e di conseguenza questa cosa deve far riflettere sul fatto che bisogna iniziare ad essere responsabile anche per la nostra salute perché si è veramente portati a delegare tutto ma certe cose non ha senso cioè è veramente stupido ottuso dire le delego, dico a qualcun altro, faccio a qualcun altro magari faccio 20 visite e in ogni visita la persona mi dice guarda fai questi esercizi torni, fai questi esercizi, torni, fai questi esercizi, torni e poi non li fai ma è come andare al dentista una volta, io ci vado ogni volta nei sei mesi e non lavarsi i denti tra una visita e l'altra ovvio che poi ti trova sempre il problema ma non è che se tu vai dal dentista lui te lo risolve sempre a meno che tu non vada ogni giorno ma allora devi proprio cagare soldi e questo può aiutarti effettivamente se io avessi una valanga di soldi adesso andrei dal fisioterapista ogni giorno e probabilmente mi risolverebbe quindi effettivamente c'è anche questo problema qua e tra l'altro c'è anche questa soluzione qua e tra l'altro non è assolutamente da escludere anzi credo sia la realtà che le persone ricche, facoltose comunque che ce la possono fare, che ce la possono permettere investano questi soldi in questo tipo di attività quindi nel guarire se sentiamo parlare di persone che si sono comprati macchinari per avere, farsi la crioterapia per farsi le saune, per farsi i massaggi da migliaia e migliaia di euro per si fanno seguire quotidianamente da un personal trainer per fare attività fisica magari possono dire sì beh grazie al cazzo cagli i soldi e bravo tu che te lo puoi permettere non me lo potrò mai permettere eccetera però in realtà quello che hanno loro dove loro intendo sempre le persone facoltose è una mentalità totalmente diversa oltre ai soldi ma non escludo che questo sia assolutamente collegato anzi credo che sia collegato al fatto di dare importanza alle cose giuste alle cose reali le cose che puoi controllare le cose che fanno la differenza andando avanti nella tua vita perché alla fine se tu vedi le persone facoltose i ricchi diciamo ricchi chiamato questo termine che può sembrare disperaggiativo ma non lo è quando invecchiano comunque invecchiano sempre con una certa eleganza perché? perché si prendono cura del loro corpo non è che si lasciano andare se sono ricchi ovviamente anche mentalmente poi se è una persona arricchita magari vedi che spreca i soldi in feste mignote e attività deleterie quindi arrivano a una certa età distrutti dalla vita però in generale se una persona si arricchisce probabilmente a parte che vuole godere della sua vita della sua miglior forma fino a un più avanti possibile nel tempo però è anche un'altra cosa che ha capito sin da subito che l'investimento più importante che può fare è su se stesso sia a livello di formazione questo ne abbiamo già parlato non è l'argomento di oggi ma anche a livello di forma fisica proprio di mantenersi di cercare delle attività che lo rendano sempre al meglio che li curino eventuali problemi e che li prevengano quindi questa è veramente una riflessione che non avevo mai fatto e che se sentivo dire era appunto veramente vabbè sì c'hai i soldi è ovvio che faccio non è vero perché se io adesso avessi tutti i soldi del mondo o meglio adesso sì ma se li avessi avuti fino a sei mesi fa non avrei neanche mai lontanamente pensato di spenderli che poi investirli in questo modo qua perché? perché evidentemente ancora non ero pronto non ero nell'ottica giusta non ero ancora una mentalità ricca diciamo milionare che capisce quali sono le cose importanti e quali sono le cose non importanti quindi in realtà la cosa che ti può saltare in mente è vabbè finché ho tempo finché sono giovane posso occuparmene non c'è fretta vabbè guarirà da sole eccetera eccetera in realtà il tempo passa e prima si prende cura prima ci si prende cura di noi stessi è più facile curarsi e soprattutto prima entriamo in una mentalità che ci fa che ci fa stare meglio e poi veramente ragazzi io credo di non stare effettivamente bene da un sacco di tempo ma bene proprio al 100% di 12 cavoli oh spacco il mondo da quando sarà brutto da dire ma da quando ho lasciato il lavoro dipendente ormai mi è iniziato il mal di schiena e da allora penso di non aver mai espresso il mio massimo potenziale questo è veramente un peccato una cosa che non può non può e non deve continuare ad accadere di fatti appena tra l'altro sabato proprio partendo per le vacanze ho telefonato a una fisioterapista e ho deciso di fissare un appuntamento per risolvere questo problema qua perché non si può non se ne può più il bello è che appunto ogni giorno che passava dove dovevo lavorare mi svegliavo devo fare gli esercizi per la schiena in realtà dico per la schiena perché è una cosa che esemplifica abbastanza tutto quello che sto dicendo poi voi magari avete i vostri problemi relativi ma penso che potete circa inquadrarli in quello che vi sto raccontando ogni mattina mi svegliavo e dice no no non posso non ho tempo non posso spendere dieci minuti dieci minuti per fare un esercizio lì investo per scrivere un articolo che poi un cazzo di articolo scritto con la mentalità di allora non mi rendeva assolutamente niente non che quelli di adesso siano più profiqui però almeno sono scritti con una mentalità un po' diversa con un criterio decisamente più più profittevole se dovessero avere successo la metà almeno la metà di quanto mi aspetto quindi diciamo che anche questo è veramente assurdo mi fa capire che proprio non c'ero non c'ero ma sono contento adesso di esserci arrivato a un anno dal vecchio dall'inizio del vecchio pod del vecchia serie della quarta serie dove dicevo tratta il tuo corpo come un tempio bello bravo Giacomo anche in quel caso là hai fallito perché hai detto una cosa e poi hai fatto tutt'altro cioè l'unica cosa che ti dava fastidio è vero la schiena e si è protratta in avanti in maniera incredibile e tu veramente bastava fare pochissimo esercizio prendere le cose per tempo e avresti risolto tutto senza probabilmente sbatterti così tanto invece adesso siamo a questo punto qua dove sono non dico disastrato ma sono veramente imbarazzante quando mi alzo da una sedia o quando mi alzo dal letto quando mi alzo dal letto è proprio schifosa la cosa tra l'altro dormo pure male quindi veramente cioè è evidente dico mi atteggio dire sono giunto a una riflessione interessante in realtà il sintomo è così forte che è totalmente evidente non posso più nasconderli però grazie anche a quello mi ha fatto capire che cavoli è ora di svegliarsi fuori è ora di iniziare ad investire i soldi per stare bene e a seguito di questa riflessione anche sono contento invece di essere giunto di essere giunto a un'altra proprio la notte dove ho avuto il covid della notte peggiore dove mi sono stato osservato in sostanza tutta la notte tra vomito e diarrea è stata una notte pessima ma va bene ci sta ogni tanto ci sta di star male basta poi appunto riprendersi e dove ho capito che non ha nessun senso mangiare male mangiare troppo anche oppure mangiare cose delle quali non hai voglia oppure nel mio caso era ogni tanto avevo l'abitudine di tagliare ogni tanto sempre tagliare l'erba e poi alla fine siccome c'era caldo siccome ero soddisfatto per il lavoro svolto mi bevevo una bella birra così subito dopo però in realtà mi sono reso conto che andando avanti nel tempo questa cosa mi dava soddisfazione ma sempre meno quindi in realtà continuavo a berla e la facevo me la facevo andare bene però alla fine alla lungo ho detto anche cavoli perché perché se non ho voglia di bere che senso ha bere tra l'altro è una cosa che non mi fa stare bene mi sfondo di acqua e preferisco però è un ragionamento che che non so mi è piaciuto perché appunto prende mette in discussione molte cose che avevo dato per scontato cioè bevi una birra quando hai fatto una cosa che ti dà soddisfazione oppure delle soddisfazioni nell'ambito di diventerò milionario ero solito arrivare a un achievement e poi bere qualcosa però in realtà adesso non mi va più cioè se una cosa non mi dà più soddisfazione come dovrebbe o come pensavo che mi avrebbe dato perché perché eccedere perché costringersi a fare una cosa che appunto non funziona non va bene quindi dopo quel giorno là vi ho già detto ho smesso di bere caffè questa cosa mi è abbastanza mi è piaciuta un sacco perché appunto mi sta dando dei segnali positivi no proprio a livello di trattare il corpo come un tempio anche di trattarlo come di tenerlo il più pulito possibile cioè a livello di sostanze che possono alterare il ritmo circadiano il ritmo mentale il ritmo sonno veglia no e quindi mi piace anche il fatto di averlo eliminato totalmente di averlo sono riuscito a sopperire quindi adesso mi do alle tisane in maniera brutale oppure all'acqua frizzante quindi sono proprio l'anima della festa l'anima degli aperitivi e e invece per l'alcol beh per l'alcol sono riuscito a a limitarlo molto o meglio come avrà vi aveva già raccontato il timido non mi limito quando non c'è da limitarsi ma quando non ha nessun senso non è che mi eccedo se non mi va non mi va appunto e basta alla fine la vita è la mia il corpo è il mio e voglio assolutamente che mi duri il più tempo possibile anche perché quello che raggiungerò sarà tanta roba e non avrà senso arrivare e poi non poterne godere perché magari starò male avrò dei problemi quindi questa cosa assolutamente non deve accadere volevo appunto raccontarvi questa mia riflessione perché perché di sci perché si dà tutto per scontato sia il fisico sia gli acciacchi però in realtà perché darli per scontati al fine perché la visita dei specialisti costano tanto vabbè costano 100 200 500 euro ma se quella visita ti risolve il problema che hai cioè non baratteresti tutti i soldi che hai per stare bene effettivamente magari tutti no perché dice poi con cosa vivo però non baratteresti gran parte dei tuoi risparmi per stare bene da un giorno all'altro cioè ti svegli e cacchio non è più mal di testa mal di schiena mal di pancia quando mangi mal alla gamba qualsiasi cosa ci vedi bene ma ci vedi bene anche quello si può risolvere tipo io sono miope però poter farmi imparare con laser non lo faccio in realtà non per una questione economica ma per una questione che mi fa paura farmi sparare un laser nell'occhio però anche questo vedremo vedremo andando avanti chi lo sa questa convinzione può essere cancellata anch'essa perché alla fine vediamo vediamo e soprattutto la cosa che mi manca ad ora ma che voglio voglio migliorare anche in questo ambito qua è il networking anche sotto questo aspetto il networking sotto la cura fisica sotto lo stare bene sotto lo fare attività che sono migliorative per il proprio benessere perché se tu pensi in networking cosa fai? vado parlo di affari parlo di business cambio idee eccetera eccetera però in realtà un'ottima cosa è anche parlare di come che attività fanno le persone a cosa si danno come si tengono allenati perché poi alla fine tu li vedi che sono tutti abbronzati belli stanno bene e almeno la gran parte delle persone che vedo ai corsi a Milano cioè non è che dici quello si sta buttando via anzi magari prima di trovare il modo per diventare ricco si stava buttando via e poi quando ha iniziato a macinare soldi ho detto aspetta che è giunta la mia stessa conclusione quindi questa è la mia riflessione che si ribalta anche nel cibo perché vi dico questa cosa qua ieri sera sono andato a mangiare fuori e c'era ovviamente tutta la trafila di pizze paste cose sludre eccetera eccetera alla fine ho detto ma ma Giacomo inizia già a ragionare un po' come una persona facoltosa si dice anche devi provare delle cose per renderti conto che sono quelle che vuoi quindi sei più portato a guadagnare i soldi se quello che fai rispecchia già i soldi che guadagnerai in futuro quindi è una simile fake it till you make it che a me non piace però diciamo che rende abbastanza l'idea e allora ho ordinato un filetto al pepe verde non che forse la specialità Michelin però piuttosto di una pizza che poi già non riesco più a diserire perché mi fa stare pesante è stata una scelta ottima difatti mi sono goduto la serata e sono uscito a stare sveglio fino a tardi quindi bello così con la pizza invece pizza e birra sarei stato distrutto e gonfio già mezz'ora dopo aver cenato quindi questo è l'episodio di oggi ragazzi perché forse è un po' noioso forse un po' bla 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 però veramente se fate attenzione non so quanti di voi io sicuramente no possono dire di stare bene fisicamente a meno di non essere giovani che se sei giovani sei benedetto della gioventù però ti conviene iniziare già a pensare in termini di problemi che arriveranno ma anche no alla fine non lo facevo quindi ho aspettato i 37 anni per raggiungere questa riflessione però appunto se avete qualche guai o qualche problema i soldi vanno investiti alla grande perché sono effettivamente uno strumento che può aiutarci a migliorare la qualità della nostra vita la qualità della nostra vita alla fine è quello che per il quale combattiamo perché la libertà finanziaria ci sta ma libertà da cosa dal lavoro per goderci la vita se libertà del lavoro è andare a fare delle attività sul su col trespolo per muoverci avanti col deambulatore oppure col bastone anche no piuttosto preferisco sacrificare dei soldi investiti per stare meglio e allontanare la mia indipendenza finanziaria è una riflessione che va assolutamente fatta da quale si parla poco perché si parla sempre di spingere 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 guadagna 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 fanculo 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 e però questa cosa importante è trattare il corpo come un tempio quindi in questo secondo episodio richiamiamo mi pare la quinta regola del libro e del quinto episodio della stagione 4 detto questo ragazzi fatemi sapere se siete d'accordo con me io sono d'accordo sì e cosa ne pensate se è stato un episodio un po' bleh rispetto a quello di ieri oppure se è stato magari rivoluzionante in qualche modo sono Giacomo diventare un'area in 5 anni a domani ciao ciao